Come è stato sottolineato in conferenza stampa, l'operazione ha una duplice varenza oltre a quella di assicurare alla giustizia i bossi mafiosi e quello di svuotare le casse di cosa nostra e far sì che le organizzazioni criminali vengano proprio annullate in punto. È importante vedere il valore dei beni confiscati, in quanto si tratta di una villa e di un appartamento che non ha un valore, ma è importante soprattutto perché conferma che lo Stato è presente, che se è pur vero che la malavita si arricchisce in tranzo semplice, non è un tipo, spesso queste malavitose non possono mai dire per la vita, però che lo Stato è presente e questi beni che sono frutto dei caratteristiche che vengono poi restituiti alla collettività quando non abbiamo solo le organizzazioni.